Ciao ragazzi, benvenuti da Zianiello, Mario. Siamo qua ragazzi, buonasera a tutti. E niente, fra poco ci mangiamo una pizza, ok? Mario, c'è un po' di gente qui e niente, fra poco ci mangiamo una pizza, abbiamo preso due e mezzo metà di pizza, una coca e niente, serata tranquilla, a più tardi ragazzi. C'è un po' di gente, si è un po' di gente. Grazie a tutti. Ragazzi è arrivata pure la pizza, eccola qua, con noci e la nuova margherita, con scaglie di parmigiano, mozzarella e pomodori del pieno. E questa è la crema di noci, mozzarella e scaglie di parmigiano. Buongiorno ragazzi, noi mangiamoci, vediamo dopo. Mario, buon appetito. Buon appetito a tutti ragazzi. Ragazzi, bambami, siamo mangiati tutto. Mario, com'è questa pizza? Buon appetito. Buono ragazzi. Molto bello, se vi capita venite, venite qui da Zianiello. Passatevi questa pizza che vale veramente la pena ragazzi. Questa è la nuova margherita, già l'ho presa in un altro video. E questa è la noci, molto molto buona. Eh, due ultime scelze. Pottati, ragazzi. Allora ragazzi, vi ho finito di mangiare qui da Zianiello. Ci troviamo qui in questo ristorante, in questa pizzeria, diciamo. E niente, qua ci sono un po' tutte le luci del panorama. Si vede un po' Napoli, il golfo. E' stata una bella serata, vi ho mangiato una buona pizza. E niente, dice Mario. Ragazzi, abbiamo mangiato bene, no? Sì, sì. Un bel mezzo metro. Se venite in due, prendete un bel mezzo metro, una bibita. E chi cazzo sta meglio io, o no? Ok, ragazzi, che dire? Ci vediamo alla prossima. Abbiamo fatto una serata tranquilla, niente di eccezionale. Dopo tanti locali belli, tanti locali scicchi. Andiamo, no? Stasera una pizza normale, va bene? Ragazzi, al prossimo video. Sto video lo dedichiamo a Paolo, che lui ha una nostalgia di Napoli. Vedi Paolo, che bello? Tutto il golfo, è tutto Napoli e provincia. Ok, ragazzi, al prossimo video da Travertoni, da Antonio Sepe e Mario Terbone. Ciao, ragazzi, al prossimo video.